Il mio progetto all'interno della mostra nasce da una richiesta del curatore della mostra, Beppe Finessi, di occuparmi della camera da letto. La camera da letto è il luogo del sonno, il luogo in cui trascorriamo gran parte della nostra vita e in cui si fanno dei viaggi pazzeschi. Io devo dire che un po' questa dimensione del sonno l'ho assimilata alla dimensione del feto nell'utero. Tra l'altro lì ho fatto un ragionamento, in fondo che cos'è un uovo se non un utero solidificato? Però con una dignità formale molto forte, cioè la perfezione dell'uovo che è stata sempre un po' assunta a simbolo da diversi artisti, diventa il nucleo fondamentale, diventa la stanza stessa. All'interno della stanza però ritroviamo come l'impronta di un volto. Infatti il lavoro si intitola Intro, è come se fosse veramente un ritrovarsi all'interno di quest'uovo, un aver lasciato un'impronta in cui bisogna quasi riconoscersi. All'ingresso del mio uovo per dormire ci sono due vestali, ci sono due figure femminili, io da oggetto maschile non posso prescindere dall'equilibrio del femminino. Qui ci sono queste due vestali che accolgono i visitatori con dei ripiani a disposizione per l'iflet o comunque per scambiare bigliettini amorosi.